Che relax, che momenti di tranquillità qui nella base del Team Magma. Ero qui seduto e stavo pensando, dovremmo agire, dovremmo fare qualcosa per fermare gli altri team. Ma mi sembra evidente la nostra netta superiorità oramai. Pertanto me ne stavo qui tranquillo, sono momenti di pace e di prosperità qui nel Team Magma. Beh, che dire, potrei andare a farmi una passeggiata? Chi? Chi ha parlato? Ehi, qualcuno mi sta chiamando? Tir? Marco? Siete qui per caso? Boh, strano. Mi era sembrato che qualcuno mi stesse chiamando, ma mi sarò sbagliato, la base è totalmente vuota. Eh, insomma, sarà ora di tornarcene a casa. Devo risalire attraverso il cunicolo. Ma che cazzo? Questa volta non ho dubbi. Ho sentito una voce, ma da dove proviene? Nella camera di Marco, forse? Non mi pare. E in quella di Tearless? Sembrerebbe tutto vuoto. Possibile che ci sia qualcuno nella mia stanza? Ehi, là! C'è qualcuno? Qualcuno è entrato nella mia stanza? Se uno scherzo non è per nulla divertente. Fatevi avanti! Non fatemi venire a cercare! Poi sapete che sguinzaglio il mio Rayquaza a livello 100 ed è la fine, eh? Io ve lo dico. E va bene, l'avete voluto voi! Via sgama... Via... Via... Non c'è nessuno. E allora... Quella voce... Da dove proveniva? L'ho sentita! L'ho sentita distintamente! Ragazzi... È impossibile che qualcuno sia là sotto. La camera qui sotto è assolutamente segreta. Nessuno l'ha mai vista. Ve l'avevo mostrato in un video, certo. Ma neanche i miei compagni di team sanno dell'esistenza della mia camera segreta sotto al trono di magma. Dobbiamo vederci chiaro. Ok, mi faccio coraggio e proviamo a scendere a questo punto. Ok, ma non c'è nessuno anche qui. Da dove proveniva la voce? Blaze! Per un attimo! Mi è sembrato che l'armatura mi parlasse. Non scherziamo, è solamente un cumulo di polvere ormai quell'armatura. Pure una strana voce sembrava provenire da lì. Forse non dovrei scherzare con certe cose. Pure sento una strana energia negativa emanata da questa armatura abbandonata. E ho come questo istinto. Come se avessi bisogno di prenderne un pezzo. Solamente uno. Non succederà niente tanto. È solo un'armatura, vero? Proviamo. Oh, dove sono finito? Ah, mi gira un sacco la testa. Che posto è? Non lo riconosco. Perché c'è una sorta di tuta impiccata? Questa cosa è davvero grottesca. Sono tombe. Rip. Oddio, cos'è quell'occhio? Che cazzo sta succedendo? Non lo riconosco, io non ero qui. Perché sono finito in questo postaccio? Benvenuto nel mio regno. E tu chi sei? Non importa chi sono io. Importa chi sei tu. Un traditore. Che hai portato la morte. Al tuo team. E questo non è il risultato. Ora, la pagherai. Ti seguirò in tutti i tuoi peggiori incubi. Non ti libererai mai di me. Sarò sempre alle tue spalle pronta ad attaccarti. Sarò io il tuo peggiore incubo. Ma che cosa sta succedendo? Che mi sta succedendo? Torna a dormire. Ci vedremo presto. Stai lontano da me! Ma che diamine... Ma dai! Era solo un sogno! Quanto sono stupido! Oh ragazzi, è stato così realistico. Per un attimo ho davvero pensato che ci fosse uno strano spirito che ha preso possesso dell'armatura del Team Rocket. E che mi stava parlando e volesse vendicarsi del fatto che il team è stato abbandonato. Ah, che sciocco che sono! Non dovrei credere a certe superstizioni. Va bene ragazzi, direi che è ora di iniziare il nostro episodio. Senza più strane interruzioni. E quindi salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo episodio della Pixelmon. Ci troviamo nella nostra mansarda. E a quanto pare abbiamo appena dormito. È stato tutto un sogno d'altronde ragazzi. È evidente che non possono esistere strani mostri o, che ne so, hunter con strani skin. Tra l'altro sta anche piovendo. E sì, quell'hunter che abbiamo sognato ragazzi, che cos'era? Un hunter rosso? Non può neanche esistere un hunter rosso. Cioè, hunter shiny è totalmente differente. Per cui ragazzi, torniamo con i piedi per terra. E andiamo a fare un episodio dove bisogna fare un po' tante cose. Innanzitutto volevo mostrarvi con più calma il nuovo magazzino che ho costruito. Perché non ho avuto occasione di farlo. L'ho fatto vedere molto velocemente. Allora, l'area dove avevamo tutte le ceste, che erano mai strapiene, c'era un disordine incredibile. È stata svuotata per ospitare delle scale che non sono per niente belle, me ne rendo conto. Però, appunto, avevo fatto questo buco, dovevo riempirlo in qualche modo. Quindi ho messo le scale, ho spostato qui l'incudine. Ho trasportato qui una zona enchanting, così siamo molto comodi anche per fare gli attrezzi. E poi, qui abbiamo il nostro bellissimo magazzino. Mentre, permettetemi di rimettere anche l'elmo. Perché, di solito, vedete, l'elmo fa baggare il mega bracciale. Però, comunque, lo voglio tenere sempre su. Come vedete, abbiamo un sacco di chest con un sacco di time frame sopra. Le MT sono molto fighe perché sono divise tipo per tipo. Tipo, tipo, quante volte sto dicendo tipo. Qui dentro, per esempio, abbiamo tutte le coleottero. Qui sopra tutte le fuoco e così via. C'è una double chest per ogni tipo. Il problema è il tipo normale, che ha un sacco di MT. Però ci avanzano ancora due slot liberi. Spero di non riempirla, questa ceste. E non ci sono mosse follette per ora. Quindi sono 17 doppie ceste. Ce ne sono ancora un sacco vuote, un sacco riempite. Quindi, un sacco di oggetti vanilla, minerali, attrezzi, cibo. Che non serve perché siamo in Pacifica, ma non si sa mai. E ho diviso molto dettagliatamente anche gli oggetti della Pixelmon. Per esempio, tutte le bacche sono qui. Qui abbiamo oggetti curativi di vario tipo. Qui abbiamo pietre e oggetti evolutivi. Messaggi. Qui abbiamo le megapietre, per ora solo queste. Le ghicocche, cotte e crude. Perché allora, qui abbiamo le cotte. Anzi, le cotte sono di qui e le crude sono di lì. Le medaglie, per ora ne ho tre. Questa l'avevamo battuta, la palestra a fuoco. Ma non ci aveva dato la medaglia per via di un bug. Quindi me la sono dovuta recuperare. Mentre abbiamo già preso quella erba e quella roccia. E più, insomma, un sacco di cose. Poi la figata che, oltre a questo bel magazzino che è uscito davvero bene, abbiamo l'uscita sul retro, che è fatta così ed è davvero molto faiga. Ora, rientriamo un attimo in casa, che tanto sta piovendo. Andiamo al box e ricomponiamo anche un team, dato che ero in giro solamente con Rayquaza. Allora, ci mettiamo il nostro Zapdos, il nostro O, il nostro Mew, il nostro Parasect e poi mettiamo anche Crowdant. Questo è praticamente il mio team caccia leggendario. Tra l'altro ho ancora un sacco di ball, se dovesse mai capitare un leggendario. Il problema è che li abbiamo catturati tutti, quindi va così. E nulla, per quanto sia notte piove, quindi una situazione davvero creepy. Soprattutto dopo quell'incubo, non è propriamente bellissima come cosa. Dobbiamo andare alla mia farm di ditto, di uova random, per vedere se hanno fatto altre uova. Perché ragazzi, abbiamo già fatto il nostro gioco, abbiamo recuperato i ditto che ci servivano. Cosa sta guardando sta tizia? Ehi, perché sei fissa a guardare di qua? C'è qualcosa nella foresta? C'è un uovo? Perché? Cosa te ne frega di quest'uovo? Ah, c'è una gallina! Ma è Gertrude! Non è Gertrude. Ma senti, ma vai via! Ecco, bravo, scappa! Avete visto, aveva paura di me, è scappata. Comunque, i ditto hanno procreato altre uova. Ragazzi, io ci sto lavorando. Ogni tanto vengo qui, raccolgo qualche uovo, perché guardate un po'. Innanzitutto facciamo un attimo spazio. Poi raccogliamo qui. Un uovo solo mi hanno fatto, va bene, lo stesso. Ne abbiamo già sei. Sono altre sei uova random. Quando arriverò a dieci, credo che farò una sfida con Tiar, che mi suggerì all'epoca l'idea di fare queste uova random con i ditto. E proveremo a, tipo, combatterci con dei Pokémon generati randomicamente dalle uova. Il che è una cosa molto figa. Quindi, pian piano sto producendo uova con questi ditto, in modo da fare questa cosa nel futuro. Detto ciò, ragazzi, tra non molto inizieremo, andremo, anzi, a combattere la prima palestra. E per fare ciò ci servirà un oggetto particolare. Quindi andiamo subito a vedere se lo abbiamo. Perché ci servirà l'ambra antica. Perfetto. L'ambra antica è il fossile che genera Areodactyl. La palestra che voglio andare a sfidare, infatti, per prima, è la palestra di Tech. Tech ha una palestra puramente con Pokémon fossile. Quindi ha tutti i fossili di cui ne userà, presumo, solamente sei per fare il team che utilizza. Il prezzo d'ingresso di questa palestra è un fossile che, a quanto pare, di volta in volta cambierà. Noi abbiamo l'ambra antica, che è il prezzo di adesso. E che quindi ci servirà per accedere alla palestra. E inoltre ci servirà anche un Pokémon fossile che andremo a prendere, quindi nel box, se riusciamo a scendere. E andremo ad allenare, appunto, proprio Areodactyl che ci è stato donato da Tech, che era uscito da un uovo nella puntata del Due Uova di Pasqua. A tal proposito voglio anche allenare qualche Pokémon che abbiamo ottenuto randomicamente. Ora, devo fare una premessa. In tanti mi avete commentato su questa cosa. Allena questo Pokémon, allena quell'altro. Li avete detti quasi tutti. Forse tranne Geodude e Stuntler, che sono quelli un po' meno appetibili. Però siete tutti convinti su Areodactyl, e infatti lui sicuramente lo alleniamo. Wailmare anche, però mi avete concesso di utilizzare non un Wailmare qualsiasi, ma il nostro bellissimo Wailord. Che vi ricorda, è un Wailord giga enorme, dove sta la taglia, giga enorme. Ed è il Pokémon più grande di tutta la Pixar, non praticamente. Degli altri potrei utilizzare, appunto, Nidoking, Forretress. Magari Forretress, possiamo provare a farci qualcosa. Nidoking, mi piacerebbe allenarlo, ma come vi ho già detto, vorrei anche portare uno scolipede, anzi uno scolapiedi. E soprattutto, recuperare il nostro Arbok. Primo Pokémon che abbiamo catturato, al di fuori dello starter. E Pokémon ignorantissimo, se vi ricordate. Che bello, Arbok. Vediamo, facci sentire il tuo Charbuck. Faccelo sentire, dai. Ciao Arbok, quanto tempo? Charbuck. Quindi, ragazzi, lui anche lo devo allenare per una questione affettiva, ragazzi, ci vuole. Per il resto, ragazzi, i Pokémon fossili hanno tutti in comune un tipo, che è il tipo roccia. Sarebbe iper easy superare una palestra del genere, qualora ti portassi un team interamente Pokémon d'acqua. Perché lì, praticamente, vinci stra easy. E credo non ci sia una regola come la mia palestra, dove l'acqua è vietata perché siamo nel Nether. In questo caso non saremmo nel Nether, quindi la regola, penso, non ci sia. Però, di certo, non mi comporterò slealmente, ma anzi, me la voglio giocare più tatticamente. Quindi, voglio portare un solo Pokémon d'acqua, che potrebbe essere Wailord o anche Geridos Zombie. Magari, in questo caso, Wailord, dato che lo abbiamo trovato nell'uovo random. Per il resto, ragazzi, i fossili sono accomunati dal tipo roccia, per l'appunto. Ci sono un sacco di fossili di tipo anche acqua, quindi sono quasi tutti doppio tipo. Il problema del tipo acqua è che, ovviamente, non puoi usare mosse elettro, perché c'è anche il tipo roccia. Ma puoi utilizzare, portare dei tipi erba. O, per esempio, potrei portarmi uno Shandelure. Sarebbe, dalla nostra palestra, dato che ha Energy Palace, sarebbe una cosa interessante. Uno Shiftry, anche, che è già bello pronto. Potrebbe essere un Pokémon interessante da portare. Altri Pokémon sono erba, acciaio e coleottero, come altri mezzi tipi. Quindi lì, un bel Pokémon fuoco farebbe faville. E anche qui possiamo andare a pescare dalla palestra. Magari lo stesso Typhusion potrebbe essere interessante da portare. Oppure qualcosa di più maneggevole potrebbe essere un Camerupt. Perché ci sono anche Pokémon con il doppio tipo volante. E quindi lì, un attacco roccia, penso, potrebbe fare male. Quindi, per esempio, una frana. Insomma, insomma, ragazzi, direi che un team papabile sarebbe Wailord, ovviamente quello giga enorme e non lui, Areodattil assolutamente, lui stesso di tipo roccia, e tra l'altro guardate che belle mosse che ha per ora. Ha già delle belle mosse, ci possiamo lavorare molto bene, secondo me. Ci porterei dalla mia palestra Shiftry e forse Typhusion, o forse Volcarona. Volcarona mi emoziona di più, però, devo dire. È più ignorante. E poi ci butterei dentro un Pokémon X di tipo erba, che ci andiamo a cercare ad allenare. E lì non lo so, perché abbiamo, per esempio, Vileplume Shiny. È molto carino. Però potremmo andare a cercarci proprio, nello specifico, un Pokémon erba mai trovato. E in questo caso potete anche voi consigliarmelo, se volete. Sarebbe molto carina come cosa. Gallade, anche in futuro, mi piacerebbe allenarlo. Assolutamente. E poi un Pokémon, un Jolly, che non saprei cosa portare. In realtà potremmo metterci, appunto, Nido King, uno dei Pokémon trovati nelle uova, oppure addirittura Arbok, se vogliamo portarlo. Non sarebbe molto efficace, probabilmente. Non ha delle mosse belle per niente, ma potremmo strutturarlo in modo da avere una sorta di Jolly, con delle mosse impreviste, delle mosse di stato come Tossino, cose di questo tipo. Fatemi sapere anche voi che cosa preferireste, ragazzi, cosicché nella prossima puntata possiamo metterci qui e preparare un team per poi fare l'assalto alla palestra. Quindi, ragazzi, io vi saluto, ci vediamo presto con un altro episodio della Pixelmon. Fatemi sapere che Pokémon preferireste per la palestra. Io ora me ne vado a dormire, che sono molto stanco, quindi, ragazzi, direi di concludere qui l'episodio. E quindi, un saluto da Eren Blaze. Ciao a tutti! Ciao a tutti!